Ci siamo? Ah ok, un po' come vinciò sul piccolo campione di tennis mondiale, il signor Francesco. Domenica, numero? Oh, Jacopo? E va quella pallina. Ha fatto giù a te? Eh, fa giù a me. Dai che? Oh, Jacopo? Oh, Jacopo? Oh, Jacopo? Le novità del bagno? Eh? Le novità? Non lo so. Come non lo sai? Quali sono le attività del bagno? Acqua gym. Acqua gym? Spinning. Poi? Yoga. Yoga? Queste sono le Spice Girls del bagno Vittoria. Salutate. Ciao. Saluta. Bye. Ciao. Ciao. Saluta. Brava. E' era forte. Era forte. Via, ci va. Ciao. 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 Ciao.